Benvenuti e bentornati, rieccoci qua su Norland, quest'oggi signori vediamo che cosa combinerà la nostra famiglia di nobili come potete vedere in alto al centro si è aggiunto un nuovo nobile, abbiamo fatto entrare nella nostra famiglia Mura perché comunque ci sta dando una grandissima mano, adesso metto un attimo in pausa non vorrei che combinassero qualche danno ci sta dando una mano, gli ho fatto fare amicizia con i vari nobili adesso sembra anche essere innamorata del nostro caro Vite e così magari riusciamo a trovargli una moglie, sto disgraziato se no continuo ad andare dietro a Rondina, io non so cosa fare come potete vedere Rondina è di nuovo incinta perché ovviamente quando c'è l'amore signori, quando c'è l'amore ciccia fuori qualcosa di umano e quindi è di nuovo in dolce attesa ma a noi va bene perché dobbiamo cercare di tirar su parecchia prole perché se no non si va avanti visto che comunque dobbiamo governare la famiglia quindi io quasi quasi avrei l'intenzione di far sposare questi due così che magari ciccino fuori qualcosa anche loro di carino ci è molto utile Mura perché ha molta intelligenza, cosa che ci va a dare una mano con l'insegnamento dei pargoli anche degli altri però adesso stiamo diciamo insegnando le cose a Elena non so che cazzo è finita oh mia cara di solito è con lei però ah no è qua come potete vedere lei piano piano sta andando avanti amministrazione 2, persuasione 3, maniere 3 perché comunque anche la stellina quindi ha già un'abilità in quel campo lì commercio 1, combattimento e comando 1 e 1 bene 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 mentre mandiamo avanti ho fatto fare amicizia tra virgolette diciamo così con i Maka perché non avevamo un bellissimo rapporto diciamo quindi ho mandato a caccia lado tornato anche ferito tra l'altro meno male che si è curato se no mi sarebbe dispiaciuto parecchio abbiamo fatto amicizia anche con loro sempre comunque popolo Maka picco vintoso ok perché perché comunque dobbiamo darci un pochino anche al commercio vendita di segale siccome io sono riuscito aspetta ritorniamo in paese va sono riuscito a cicciare fuori il campo di segale perché io come un cretino non avevo visto che tra i libri a nostra disposizione che sono questi qua a sinistra avevamo la possibilità di farlo il campo di segale e mulino non l'avevo fatto perché pensavo di doverlo acquistare invece no era già in nostro possesso adesso sto facendo sto studiando il patibolo con l'intelligenza ci dà una mano mura anche a studiare visto che l'unica sola era rondina avere la capacità di leggere quindi potevamo farlo solo con lei adesso ci manca il campo di addestramento la bottega che abbiamo acquistato adesso ci ha sbloccato questa cosa qua non so che cosa sia la possibilità di far studiare solo a una determinata famiglia diciamo così di nazione, di popolo perché questi sono i Varn quindi tutti loro possono studiarli invece questo lotta alla dipendenza può studiarlo solo mura perché è una maca e anche l'insegnamento che adesso questo devo vedere che cos'è perché sono curioso fatto sta che facciamoli finire un attimo con calma quello che stavano facendo però noi ci potremmo dare anche alla commercializzazione della segale con il popolo che abbiamo lì di fianco picco ventoso adesso andiamo a vedere un pochino come funziona la caserma scorte abitanti abbiamo una caserma ma non si sa che cazzo che cazzo serva ma va bene potremmo creare un esercito al nostro fianco io direi di farlo creare al lado visto che ha 13 guerrieri non abbiamo guerrieri male malissimo malissimo guerrieri potremmo acquistare potremmo acquistare ma che cosa acquistiamo perché non è che si è messi bene col denaro cioè in realtà si è messi bene però 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 i popolari non sono una tua proprietà e si arruolano all'esercito solo per disperazione fine dopo aver assoldato questo guerriero a seconda delle sue abilità di combattimento la tasse sui guerrieri aumenterà di 3 a montare al 3 al giorno bene mi fa piacere questo personaggio non diventerà il tuo soldato finché il sovrano non sarà un santo va bene va bene va bene allora allora io acquisterei lui cioè acquisterei assolderei questo popolano l'iva si è diventata una popolana sta di merda ma come ah ecco perché ho fatto la caserma dobbiamo assoldare delle guardie perché questa notte siccome la povertà un pochino gigioneggia nel villaggio ci sono stati degli attacchi durante la notte infatti abbiamo qua un no un prigioniero abbiamo un guerriero è scappato il tizio è scappato comunque avevamo anche un criminale che stanotte ha mituto qualche vittima tra cui l'iva ha preso talmente tante botte che non so se ferita infetta perfetto perfetto ok meno male che ha usato l'unguento cosa che per il momento l'abbiamo avevo anche acquistato qualcosina in più perché non si sa mai non si sa mai vediamo un po' eh taglio si rimetterà a posto penso di sì penso di sì è stata brava è stata brava dovrà essere dovrà essere ricompensata per questo loro due che fanno ok lei la sta educando comunque stanno facendo una conversazione importante saggia o quello che è tassa sui guerrieri la chiesa riscuota la tassa sul tuo esercito e utilizza questi fondi per mantenere in sicurezza le strade non penso proprio permettendo ai nobili di viaggiare tra le città senza temere le attacche dei fuorilegge speriamo speriamo l'importo dipende dalle abilità di combattimento complessiva dei tuoi guerrieri la tassa viene calcolata ogni giorno e si accumula fino all'arrivo della caromana sacra l'importo della tassa per ogni guerriero è determinato dalla sua abilità di combattimento al momento del recoltamento non è non aumenta con l'aumentare delle sue abilità va bene va bene interessi personali si sono attratti l'uno dall'altro con diversi gradi di interessità che si riflettono nel loro interesse va bene interesse influisce su disponibilità di un personaggio ad andare a un incontro romantico per un'attività sessuale dovrebbe essere superiore al 50 innamoramento probabilmente di fare una battuta durante una conversazione profonda fattori che influenzano l'interesse includono differenza delle abilità maniere rapporti odore età stato sociale consumi di alcolici mi piace più si beve più si viene notati effettivamente effettivamente sì allora quindi aspetta no esercito qua in basso in teoria io ho preso questo prigioniero per farlo diventare un guerriero a dire il vero così almeno 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 abbiamo qualcuno che ci combatta al nostro fianco io direi di assoldare anche un mercenario ci dura a un tempo oppure viene assoldato così a gratis viene assoldato così a gratis assoldiamolo signori assoldiamo roba un pochino tranquilla per il momento poi poi adesso in teoria dovremo avere il nostro esercito giusto penso di sì penso di sì ok quindi adesso aspettiamo che arrivano i mercenari assoldati così abbiamo comunque quattro unità di guerrieri qua possiamo andare a creare poi quando ci servirà il nostro esercito ma ma volevo fare una piccola cosa allora vediamo un po' produzione no scherzo costruzione esercito possiamo mettere di pattuglia le nostre unità contrassegnalare di pattugliamento posizionano in luoghi importanti come le case per i nobili il centro città e i depositi per proteggere queste eri dai crimini le pattuglie nottorni impediscono anche la fuga dei prigionieri le guardie tra i guerrieri usciranno automaticamente di pattuglia la sera e invece questa è diurna posiziona gli standardi di pattuglia vicino ai luoghi di produzione dove lavorano i prigionieri per impedire la fuga nonché ai luoghi dove lavorano i taglialegna e gli erboristi per proteggere dagli attacchi dei lupi infatti siamo stati attaccati anche dai lupi prima mentre non registravo quindi io direi di fare così così ok questo è diurno e a noi ci interessa per il momento diurno quindi è così perfetto poi vediamo di posizionare anche questo intanto signori allora cerchiamo di fare una roba tipo tattica così 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 eh signora a sto punto la mettiamo anche qua perché dobbiamo dobbiamo coprirle tutte coprirle tutte il centro città a sto punto guarda andiamo a coprire in questa maniera qua ok perché il delitto è successo in questo dormitorio vediamo no lo sporco di sangue è andato via non lasciamo che i nostri popolani vengano vengano uccisi signori sono chi lavora dopo se no i nostri i nostri nobili come fanno a sbronzarsi tra loro vediamo un pochino fatica moderata eh mio caro adesso vedrai che tipo io non capisco questa questa farfallina qua che cosa sia a dire il vero azione punisci attenzione possiamo punirlo quindi quindi adesso arriveranno anche abbiamo meno un prigioniero perché è passato a guerriero e invece meno questo perché in teoria doveva essere il criminale penso io non lo so intanto stiamo avanzando anche nell'ambizione del monarca quindi di avere un un villaggio abbastanza prospero raccogli sega adesso la raccoglieremo prima o poi dammi un attimo rivalità tra i nobili ok la facciamo sparire subito signori allora vediamo un pochino infatuazione attenzione infatuazione questa che cos'è fatemi vedere ispirazione il morale alto ha generato ispirazione tutte le abilità sono aumentate di 5 attenzione attenzione nel momento dell'ispirazione più totale no con lei dovevi far dovevi stare mortacci vostra aspetta un attimo svago trascorri del tempo di qualità porca miseria tra 13 ore possiamo chiedere in sposa per favore è favorevole a un incontro signori è favorevole a un incontro romantico oh mio caro come non sei favorevole a un incontro allora vediamo se riusciamo a farli sposare sposatevi scusami adesso però intanto sta bestemmiando contro la piantagione si sa parlare alle piante può avere una amazza con quanta romanticità signori in questo momento in mezzo a un campo di luppolo si di luppolo vabbè signori l'amore per l'alcol è eterno rondina ha svelato la sua la vera natura di elena cosa vuol dire è diventato un maschio non si sa adesso andremo a indagare anche su questa cosa qua se la fanno a dirsi mi vuoi sposare si siamo a posto elena ha elogiato rondina bene ordine completato produce fino a 100 unità di non se che cosa però va bene lo stesso fatto sta che abbiamo attenzione sono diventati bianchi vite il bianco attenzione Gandalf il bianco dove vanno grande festa stasera signori lealtà 100 questo ci aggrada questo ci aggrada molto desiderio sessuale è molto esposi una trombata con tuo marito vorrai pur farla o no questo di che ah picco ventoso cosa ci fa qua non si sa non si sa cazzo cosa vuole questo dove scusate un coso libero un nobile libero vabbè fatto sta che è venuto in visita un nobile di un altro villaggino Elena qua sta diventando donna oppure no no per il momento no vediamo un pochino hanno riso insieme il mio genitore il mio insegnante ok ha delle buone vibes zio zia dipende dai casi ci sa vediamo se no qua esercito se dove no sbagliato porco giuda riprendilo immediatamente quanto ci vuole per farli arrivare tra 26 ore tra 26 ore perfetto quindi io direi di andare avanti di andare avanti che sta succedendo che sta succedendo ok oh ste due sono sempre insieme proprio mamma e figlia mazza guardate lei che è diventata una una santa una fanatica bellissimo speriamo bene speriamo bene la mia cara rondina attete manca poco per studiare se magari oggi rondina andranno ad un incontro romantico perfetto oggi pure andranno ad un incontro romantico anche loro mi fa piacere mi fa piacere questo taurash dove va lei taurash brindiamo orso dunque è arrivata la sera fermatevi dal vostro lavoro dal vostro stancante lavoro prendete un boccale di birra e bevetene per tutti vita ha vinto gli anelli sacri di taurash ad adi perfetto perfetto grande vite cazzo si così ti voglio ama rondina smetti cristo santo te rondina lasciala stare c'hai tua moglie adesso trombate siate felici cicciate fuori qualche figlio va momento romantico non è vero sentite sentite e siamo qui riuniti oggi per celebrare l'unione di due persone di due cuori di due anime eccoli qua venite verso l'altare con teschi bruciati dove i defunti giacciono perché vengono guardate guardate l'unione di due cuori vite sta andando a fuoco ma va bene perché si immagina lui con la maschera perché si è sposato e quindi ormai è un uomo è finito si sa si sa vedete già pensa a ubriacarsi perché questo è il nettare ed è vietato perché porta strane fare strane cose perché questo sta pensando alla mano muzzata andate in pace ok ok adesso ovviamente si festeggia adesso è arrivato il vero momento adesso è arrivato il vero momento però io vorrei provare a un attimo commerciare con il nostro commerciante hanno brindato tutti a parte l'ado perché doveva andare a fare il suo lavoro giustamente giustamente anche se con lui ci viene richiesto più denaro per acquistare perché ha meno potere nel commercio quindi non so cosa dirgli però gli intanto vendiamo un pochino di legno perfetto guarda andiamo a 2,20 perché comunque ci fa sempre comodo gli vendiamo anche un pochino di luppolo visto che comunque ne abbiamo in abbondanza nel laboratorio alchemico secondo me ci può stare della roba interessante la felicità dell'illuminazione i nobili in visita sono felice di istruire i tuoi nobili gratuitamente interessante subito subito ebbene 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 allora io volevo prendere anche qualche cosina di interessante migliora il tuo rapporto con la matriarca a 50 finché la caromana saga comincia a venderti questo prodotto io non so come si fa con quella cazzo di monarca ad avere un rapporto decente il tempio l'ho fatto io posso farciare il tempio la statuina con i teschi di fianco l'ho fatta non so cos'altro fare non so cos'altro combinare quali sono i problemi orso dunque c'è ancora rivalità non mi piace i guerrieri sono infelici perché i guerrieri infelici diserteranno e si uniranno ai fuorileggi della foresta dal menù delle finanze compense i guerrieri con un compenso sufficiente ad acquistare cibo e alcolici decenti forse avrebbero senso costruire un tempio consentire le visite solo ai guerrieri e promuovere un fanatismo certo in questo caso diventerai dipendente dalla chiesa puoi anche considerare i guerrieri sebbene alcuni di loro potrebbero insediarsi negli accampamenti dei fuorileggi nella tua provincia e quindi l'unica soluzione mi rimane dare un autocompenso a questi a questi guerrieri a questo punto vediamo se così gli può andare bene vediamo se così gli può andare bene io non capisco se la segale mi sta dando frutti perché mi dice raccogli la segale questo è il campo di segale e fin qui ci siamo perché rompi il cazzo perché ne dovevo costruire due campi di segali e allora siamo stronzi e allora signori campo di segale solo che mi tocca farlo qua mi tocca farlo qua per forza 80 pezzi di legno l'anima ascia vostra quanto cazzo costate e poi devo erigere un mulino un mulino un mulino a sto punto io il mulino lo andrei a dirigere a erigere qua qua signori dove ci sono i campi lo faccio guarda lo facciamo qua affanculo lo facciamo qua perfetto perfetto andiamo avanti vediamo un pochino la festa come sta andando tutti stanno brindando tutti stanno voglio vedere un attimo la mia dolce metà è andata a letto con qualcun altro eh opinione di mura cosa com'è la mia dolce metà è andata a letto con qualcun altro non è vero non sono andati a letto non non è vero ma quando ma scusate mi fate le cose sotto sotto il naso non va bene non va bene non va bene fate pace a voi due non voglio che vi vi ammazziate nel sonno miei care vediamo un po' invidia della prole è andata a letto con so eh oddio che cazzo cosa sta succedendo non può muoversi ma perché perché Lado che cazzo fai ha avuto un'ispirazione di 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 sequestrare mura e fare di lei ciò che vuole non lo so cosa cazzo sta facendo vediamo la metà a letto non è che mi fa qualcosa fermi voi due fermi ah la nipote che porta lo zio a casa perché è ubriaco che meraviglia che meraviglia che vai giustamente per carità hanno fatto la prima notte di nozze ci sta cioè nel senso dovrebbero far qualcos'altro ma ci sta anche questo si vede che è stato un matrimonio di convenienza quando diventa giorno poi facciamo parlare rondine con 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 lei guarda glielo diamo già svago trascorri del tempo con mura devono far pace queste stronze con tutto il rispetto mura ha ammirato rondine in modo poco sincero male male mura male male ti abbiamo fatto entrare nella famiglia non mi fa parte della famiglia cosa fanno dove andate a chiacchierare nei dormitori non si fanno si fanno si fanno queste cose non so se sta andando molto bene gli ha dato della porca non lo so non è andata bene mi sa forse vediamo un pochino come fa amare vite porco giuda e niente signori c'è del tradimento nell'aria c'è del tradimento nell'aria un personaggio può innamorarsi di un'altra persona se mi interessa superiore a 60 non è già innamorato il suo bisogno di sesso è insoddisfatto valore inferiore a 25 un personaggio può tradire la propria metà alle conseguenze alle seguenti condizioni non prova più amore per l'altra persona il suo bisogno di sesso è insoddisfatto io non so cosa dirvi ragazzi miei sei insoddisfatta mia cara la dea mi punirà meno 10 eh ma se fai pensieri pensieri poco poco belli è così che funziona mia cara è così che funziona nuova conoscenza reclusione dei prigionieri perfetto perfetto vediamo un pochino oh abbiamo fatto la prigione cosa che non mi dispiace per niente a sto punto io l'andrei a mettere qui che dite è possibile metterla più o meno no però noi la mettiamo qua va bene eh eh il questo lo devono ancora fare perfetto che è successo fermi tutti trasferimento della conoscenza in seguito alla morte di un chi è morto la sua conoscenza va perduta perciò è meglio prepararsi a questa evenienza in anticipo distribuendo la conoscenza tra più personaggi i personaggi condividono le loro conoscenze durante le conversazioni sagge lo fanno in automatico con i loro amici i loro figli ma puoi anche dare il via a una di queste conversazioni manualmente nel menu del personaggio cioè è possibile anche con gli ospiti e gli altri nobili sulla mappa globale i quali spesso possedono conoscenze molto interessanti i nobili che invecchiano trasferiscono le loro conoscenze con ancora maggiore intensità sfruttare la loro saggezza per orca miseria orca miseria ok ok eh solo che io in teoria dovrei trasferire la mia conoscenza la loro conoscenza a qualcun altro mio caro potresti fare una conversazione perché te hai 40 anni adesso nel Medioevo non è che duravate molto non è che si potrebbe fare una conversazione saggia con Rondine vai fate una conversazione saggia signori miei Rondine rinnamorati di nuovo di Lado al massimo quando schioppa Lado allora con il fratello ci potresti andare Lado ha ottenuto della conoscenza di reclusione dei prigionieri conversando con Rondine Rondine no più uno di intelligenza interessante interessante lei come sta andando piano piano eh persuasione amministrazione educa ok un attimo che diamo un attimo una veloce guardata qui al campo di addestramento io direi di mandare subito Rondine la bottega il laboratorio alchemico studia ok si può fare si può fare perfetto è un problema no sembrerebbe di no allora Mura eh te direi che vai a fare in culo per favore ehm tu invece per favore mi vai a fare questo ok vediamo un pochino raccoglie la segale i due campi signori i due campi che succede qua è stato fatto è stato aspetta un attimo aspetta un attimo niente questo dovrebbe essere l'ultimo eh edificio governabile amministrabile dal nostro caro vite a sto punto niente facciamo adestrare facciamo amministrare a loro i cosi non so che dirvi a causa del morale basso Mura si rifiuta di completare i compiti io non so che cazzo dirti Mura cosa ci devo fare io il miglioramento di un edificio non forni solo uno spazio di lavoro aggiuntivo ma concede anche un bonus se si lo so questo si lo so un attimo un attimo cos'è transfer in seguito della morte di un nobile ok efficienza degli edifici perfetto vediamo un po' perché stai male mia cara perché stai male l'adulazione è ricevuta allora non vi si può far tro allora vai a fare sesso per favore paga chiunque non mi interessa e vai a far sesso per favore eh signori è insaziabile insaziabile attenzione gli piacciono quelli con la barba bionda buono sapersi attacco dei lupi no come l'attacco dei lupi un nobile soffre di depressione non te preoccupiamo gliela facciamo passare noi la depressione però attacco dei lupi non va bene non va affatto bene c'era una guardia qui Elena e lo giotto rondina strano strano ok se tromba attenzione se tromba se tromba se tromba quando la famiglia benevola considera il tuo insediamento abbastanza grande ti invia un vescovo signori abbiamo raggiunto un vescovo i guerrieri a soldati sono arrivati sono arrivati cinque migranti perfetto il vescovo cosa farà utilizzando il pulsante di azione nel menu dei personaggi i tuoi nobili possono confessarsi al vescovo per ridurre i loro peccati e compiere altre azioni religiose il vescovo può provocare una rivolta religiosa se litiga con uno dei nobili male assicurarsi di compiacere minchia la matriarca dà molta importanza all'opinione del vescovo locale sul tuo monarca se il vescovo muore per cause non naturali riceverai una punizione porca miseria andiamo a adulare subito sto cazzo di vescovo dove è finito il vescovo che succede? alcune azioni come insultare qualcuno essere infedeli al coniuge e partecipare alle risse sono considerate peccaminose bene noi abbiamo appena mandato Mura a far sesso con uno schiavo ma va bene oddio è incinta di un altro merda 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 è un figlio illegittimo ah oh non volevamo far sesso raga e non che devo fa non ci posso fare niente il peccato è un pensiero negativo forte e prolungato che può essere assolto attraverso la confessione con il vescovo i peccati si riflettano anche nella sezione tratti nel e io non ci posso fa niente che sta a pensare questa va a vedere un attimo incontro romano incoimminente non lo so confessati divorzi addirittura il divorzio meraviglia meraviglia ah costanelli porca miseria come posso fare come posso fare svago trascorri del tempo evite trascorri del tempo con lui non so cosa dirti o mia cara cos'altro succede avvia la produzione di farina va bene avviamo la produzione di farina produzione perfetto farina produci fino a non so quanto ah madonna mia 133 vai vai guarda guarda vai 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 fino a 50 dai perfetto direi che puoi da andare giusto uno avvia la produzione di birra scusatemi la stiamo finendo l'abbiamo finita no ne abbiamo la avviamo non ti preoccupare in realtà l'abbiamo già avviata la produzione di birra perché come potete vedere qui siamo messi bene a questo punto guarda abbondo sabbondarum ragazzi cos'altro servizi servizi quale servizi il patibolo che meraviglia durante l'orario di lavoro i boia cercano i vagabondi sospettati di crimine e li conducono al patibolo se il sospettato viene identificato sarà punito con la pena prescelta se non ci sono più sospettate in città il boia si impegna nelle prevenzioni intimidiscono tutti i vagabondi in successione dissuadendoli dal commettere crimini il giorno successivo un boia può intimidire un vagabondo al giorno signori subito abbiamo la possibilità di farlo abbiamo la possibilità di farlo io lo si in piazza ci starebbe mettiamo un pochino più giù il mercato il mercato la locanda vero giusto si la locanda sbagliato il mercato lo spostiamo leggermente più in alto questo qua l'altare lo spostiamo leggermente più in alto e qui signori erigiamo il patibolo non vedo l'ora di vedere un'esecuzione cosuda sto sbagliando tutto si 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 eh signori ovviamente ovviamente alimentazione in pietra eh signori tocca farlo tocca farlo non mi interessa di spendere soldi eh giusto così è giusto così allora magari andiamo a colorare un po' tutto perché mi è andato nel casino perfetto voglio eliminare questa e voglio eliminare questa questa qua perfetto oh la guardate che meraviglia che meraviglia minchia hanno bevuto troppo com'è andata mia cara il morale è un po' a terra a dire il vero di trascorri del tempo ah sta ancora trascorrendo quindi potrebbe migliorare andiamo un pochino avanti eccolo qua il vescolo dobro dobro slav madonna il numero di popolani in arrivo ogni giorno dipende dal morale medio dei popolani della città lo sappiamo migrazione noi arrivano ogni giorno dopo il morale puoi visualizzare il numero previsto di migrati posizionando il cursore sull'icona nell'angola superiore a sinistra la composizione culturale della migrazione dipende dalla cultura iniziale della tua provincia in parte dalla cultura dei vicini va bene come si è ammessi ah 4 persone senza casa ragazzi 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 produzione allora facciamo i dormitori perché la casa richiede i lingotti quindi i lingotti ancora non abbiamo la produzione è meglio non usarli per le case ne avevo fatta una qua poi mi sono accordo solo dopo che purtroppo c'era bisogno dei lingotti quindi non l'ho fatta ok qua abbiamo un prigioniero colui luto boy che che è successo perché sono un prigioniero che è combinato abitazione separata monarca amante della pace che che sta succedendo che cazzo il cuore disgustoso fatica lieve come mai è finito in prigione cos'è cazzo corrompi il nobel darà alla popolana un anello e la popolana sarà contenta di esaudire la sua richiesta personale la popolana potrebbe dare alla luce un figlio illegittimo questa azione è considerata peccato abbiamo acquistato un po' di lingotti perché 5 ce ne serviranno qua e quanti ce ne servire 5 qua quindi ci siamo ci siamo siamo abbastanza io non so adesso come compiacere il nostro caro vescovo vediamo un po' svago trascorri del tempo uccidi meraviglia che meraviglia che meraviglia e allora minchia non siamo messi bene allora intanto te svagati trascorri del tempo con l'ado perché così la tua il tuo morale potrebbe salire senza casa che casa che casa hanno i i i vescovi così non va bene partiamo già male la casa del vescovo finché non costruirà abbastanza alloggi questo personaggio soffrirà molto mi dispiace mi dispiace che soffra il vescovo forse a casa dei nobili non abbiamo abbastanza ferro male 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 e come sta andando la miniera l'abbiamo fatto ok non me ne ero accorto dovremo anche costruirla la miniera che dite eh servizi di produzione sarà non c'è ah la miniera è qua ok cosa serve 50 di legno va bene va bene non è un problema e attenzione trascorrono del piacevole tempo insieme nel mondo come siamo messi a proposito guardiamo un attimo chi è reclutamento nell'esercito wow ok si stanno munendo di un esercito da picco ventoso male male qua possiamo acquistare commercio vediamo come parte dell'accordo commerciale offre di vendere ah su base quotidiana corrisponde a quattro unità potremmo farlo signori vite va a fare un salto per favore va quando puoi ovviamente così almeno come è andata morale 83 sta scendendo perché non ha l'alloggio mi dispiace mi dispiace tantissimo effettivamente è strano è un po' strano devo dirvi la verità io non capisco dove cazzo dorma il tipo dormirà in una casa nobiliare dai su penso di sì non penso che serva per forza il ok abbiamo del commercio abbiamo abbiamo del commercio io provo a costruire un'altra casa per i nobili e a sto punto io la costruisco qua sotto vediamo un pochino di stare in linea deve essere una cosa fatta per bene ok qui la lavorano i funzionari che possono essere assegnati agli edifici di amministrazione invece dei nobili quindi possiamo evitare di mandare tutti i nobili gli ordini avranno una validità di tre giorni dopodiché il morale dei lavoratori comincerà a calare riducendo la produttività significativo in modo significativo i nobili si impegneranno ad aggiornare ogni giorno vabbè questa è la stessa cosa che ci dicono però è interessante quindi cancelleria potrebbe essere interessante come cosa da fare l'edificio richiede la presenza costante di un nobile amministratore per tutta la giornata lavorativa ma consente a un massimo di tre funzionari di impartire ordine a ogni numero elevato di edifici il bonus di produzione derivante dagli ordini dei funzionari determina l'amministrazione del nobile che gestisce la cancelleria ogni giorno impartito da un funzionario costa ok puoi anche costruire altri cancellieri che saranno gestite da funzionari ma il bonus di amministrazione è ridotto del 20% non è male come cosa i rapporti iniziano quando un vescovo arriva nella tua città popolazione superiore a 40 abitanti disponibilità di vari merci dalla carovana dipende dall'atteggiamento della matriarca nei tuoi confronti se i rapporti sono ostili e scendono sotto lo zero l'assortimento disponibile presso la carovana diminuirà e se scendono sotto il 25 la carovana smetterà di arrivare in città se la matriarca rimane neutrale ti avvertirà dei disastri imminenti di cui viene a conoscenza grazie ai suoi preditori con rapporti amichevoli superiore a 25 puoi richiedere una benedizione al vescovo e la disponibilità di merci aumenterà diversi fattori influenzano i rapporti puoi controllarli posizionando il corso sulle cora della croce di Santa Sofia nell'angolo superiore a sinistro questo qua quindi il rapporto della matriarca numero di fanatici in città come facciamo a far smettere i fanatici? fattori che influenzano il rapporto della matriarca nuovo episcopato eh opinione del vescovo perfetto perfetto cosa buona cosa buona e giusta ok se mi aumentano la produttività qua il livello io ne sarei molto molto contento ma molto molto contento il patibolo qua vedo che si sta venendo su luogo di esecuzione della punizione mi interessa durante l'orario di lavoro i boia vabbè l'abbiamo letto prima i sospettati viene identificato se non ci sono i sospettati vabbè il boia va oddio fermi tutti fermi tutti Elena ha ottenuto un nuovo livello commercio 2 Elena ha ottenuto un nuovo livello amministrazione 3 grande grandissima questa cos'è ti invita a unirsi a un'alleanza di città libere sotto il suo comando no no al massimo lo facciamo noi posso rispondere proposta di alleanza uniscita all'alleanza richiesta di aiuto no non 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 mi unirò mai a voi ok mazza come piove oh viene giù eh viene giù che è una meraviglia eh sta diventando un delitto uh il boia che meraviglia maf maf det neferam che meraviglia che meraviglia che meraviglia nomine amministratore vai lado solo te puoi amministrare come si deve ok perfetto speriamo che i boia intimidiscano i fanatici visto che al vescovo non interessano ok adesso tu devi andare a impartire ordini mi raccomando vite io a sto punto sai che c'è ah non ha commesso peccati perfetto a sto punto lei visto che deve confessarsi dopo magari gli ridiamo gli anelli dopo però facciamole confessare perché così almeno potrebbe star meglio lei quindi vatti a confessare mia cara confessati il prete ti perdonerà con una punizione di 5 ave maria gli edifici possono deteriorarsi nel tempo bene cazzo i campi si impoveriscono periodicamente necessitano di concimazione per questo è necessario il legno che viene bruciato dagli agricoltori per tenere cenere concimante altri edifici si deteriorano quando viene persa la conoscenza necessaria per il loro funzionamento il che avviene quando non ci sono nobili che detengono tale conoscenza in genere per riparare gli edifici sono necessari gli attrezzi se un edificio non viene riparato per molto tempo può perdere può prendere fuoco distruggendosi costituendo una minaccia per gli edifici vicini e noi ovviamente non abbiamo non abbiamo cosi non abbiamo attrezzi giustamente giustamente cazzo ridono l'esecuzione delle punizioni ingiustificate difendono un senso di terrore tra la popolazione va bene poiché i personaggi delle diverse classi sociali di solito non comunicano tra loro il terrore tra i popolani di solito non diffonde la paura tra i nobili il terrore tra i nobili passa inosservato tra i popolani si può anche esercitare il terrore contro una cultura specifica se questa ti minaccia di rivolta e questo ispirerà la cultura che la odia per esempio i popolani Kaiden saranno contenti del terrore contro i Varn contro di noi giustamente suggerimento il pensiero positivo dei derivanti il pensiero positivo derivante dal terrorizzare una cultura odiata è così forte che questa azione è uno dei migliori strumenti per creare lealisti bene bene c'è del del razzismo anche qua ok perfetto mi piace cioè nel senso reale è reale punto l'ospite sta lasciando il suo insediamento bene ora che si scavi dal cazzo oh l'abbiamo dato casa al nostro caro vescovo che succede questo rumore riparazione non abbiamo strumenti cacchio non abbiamo strumenti porca miseria avvia la produzione di attrezzi come faccio servono per migliorare gli edifici e produrre oggetti elaborati con le armi e la carta tuttavia la loro fabbricazione richiede la fusione del ferro che a sua volta necessita di carbone acquista il libro forno per carbone studiandolo e costruisci l'edificio acquista il libro della bottega studialo e costruisci l'edificio crea un ordine di carbone attrezzi pari a 10 er che miseria er che miseria allora vediamo se i libri di qualcosa l'abbiamo abbiamo la bottega però stiamo aspettando che qualcuno riesca a studiarli perché una è incinta ed è ferma questa non so che cazzo ha combinato non può muoversi è incinta giustamente è vero incinta anche lei oggi muri e vita andranno un incontro romatico mi fa piacere vedete parlare col vescovo ha fatto bene guardate il vescovo madonna d'artagnan attenzione l'amore tra i due è sorto perfetto perfetto mi piace mi piace sta andando bene il nostro villaggetto dobbiamo far sì però che allora intanto qui facciamo andare l'ado perché così almeno qualcuno ci va a parlare col mercante dov'è il mercante questo è questo perfetto qualche legno e magari poi potremmo acquistare il libro che ci serve se ce l'ha ovviamente forno per carbone ce l'ha 85 vai perfetto mi piace mi piace in teoria se usiamo l'ado per commerciare dovrebbe aumentarci anche l'abilità del commercio quindi not bad not bad ma qua la produzione come sta andando sembra sembra buono sembra buono non stiamo producendo lingotti perché giustamente non abbiamo messo nessuno come dei poveri cretini e quindi niente porca miseria l'ado per favore va subito a amministrare la miniera che sono un cretino va là va là ok queste due stanno fortunatamente stanno procedendo con la lettura perché dopo avranno bisogno di leggere anche la bottega il forno per carbone non appena ce la fanno a chiudere tutto lì io signori direi di concluderla qua perché sta diventando veramente troppo lunga la puntata quest'oggi vedrò di tagliuzzarvera il più che posso spero che sia stata abbastanza divertente comunque siamo andati avanti di parecchio abbiamo fatto amicizie con i vari villaggi intorno a noi anche se li ho fatti senza registrare però comunque è stato fatto abbiamo commerciato abbiamo fatto entrare Mura nella nostra famiglia l'abbiamo fatta sposare con Vite Rondina sta per cicciare fuori un altro marmocchio Mura idem anche se non è il figlio di Vite mi dispiace è arrivato il vescovo per portarci la sua benedizione dalla matriarca qui comunque stiamo risalendo un pochino quindi più 14 not bad anche se dovremmo andare un pochino più avanti opinioni di lato più 15 male male dobbiamo arrivare a più 25 nel mentre qua stiamo avanzando comunque siamo all'80% nel desiderio del monarca nell'ambizione che altro che altro dobbiamo andare avanti di parecchio nel mentre stanno riposando tutti fra un po' Rondina dovrebbe sfornare il marmocchio quanto manca Radover signori è nato ma dov'è? ammazza è già già grossetto vediamo un pochino allora per il momento non ha ancora niente felicità della stupidità sarà un tratto dei marmocchi allora dai può essere può essere pinza la morte figa ragazzo sei appena nato ma come cazzo vabbè quindi direi che abbiamo fatto parecchie cose la finisco qua perché sennò vado avanti per le lunghe quindi come al solito vi invito a lasciare un mi piace un commentino per farmi sapere la vostra e qualche consiglio per favore datemelo perché sennò divento cretino da solo iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure e come al solito noi ci vediamo a un prossimo episodio ciao a tutti grazie a tutti